bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di fortnite e in particolare il capitolo 3 di anzi la season 3 di questo capitolo 2 che sta oramai per volgere al termine ancora un mesetto e ci siamo ragazzi molti rumors si stanno dicendo nei vari forum alcuni youtuber di un certo peso hanno iniziato a fare delle teorie a dire delle cose che voglio riferire anche a voi quindi oggi parleremo soprattutto di queste piccolezze ma anche di numeri e che numeri prima volevo però ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul miei video news ma insomma ragazzi voglio direttamente andare dritti al punto oggi tempo non voglio rubarvelo anche perché dovrebbe arrivare la patch 12.50 quindi si sta aspettando questo video registrato prima dell'arrivo che potrebbe essere tra oggi e domani e il primo argomento di cui vi voglio parlare oggi è invece una roba molto più interessante da qualche ora direttamente hanno inserito i creatori di epic games la fase la season 3 di questo capitolo 2 negli status server cosa caspita vuol dire vuol dire che stanno incominciando a testare con un gruppo ristretto di utenti selezionati il nuovo la nuova stagione quella che inizierà il 4 giugno questo ragazzi è un'ottima cosa perché confermerebbe al 100% che non ci saranno ulteriori prolungamenti di questa season 2 del capitolo 2 che ahimè abbiamo dovuto avere un po di pazienza prima di vederla finita e che soprattutto arriverà una bella ventata di novità per quello che riguarda appunto il nostro fortnite e le novità ragazzi saranno veramente tante e alcune immagini sono già state scoperte appunto come vi anticipavo mi anticipavo prima ma prima di farvele vedere volevo solamente dirvi un post che ha pubblicato direttamente fortnite nella propria pagina twitter dove ringrazia ovviamente tutta la community e fa bene a ringraziarla perché nell'evento di travis scott o meglio nei cinque show di travis scott si sono registrate un totale di 27,7 milioni di giocatori unici quindi persone singole per un totale in tutti e cinque gli eventi di 45,8 milioni di giocatori che hanno assistito a questo astronomico show che è stato veramente un fiore all'occhiello di questa nuovo di questo nuovo capitolo di fortnite numeri veramente spaziali mai registrati per quanto riguarda un videogioco una collaborazione che entra di diritto nella storia e che fa capire che tutti quelli che continuano a dire fortnite un gioco morto forte sta morendo devono semplicemente essere smentiti è vero che non è un evento a ritirare su un gioco ma è anche vero che un gioco come fortnite ha visto tanti momenti bui ma riesce sempre a tirarsi su e come vedete noi continuiamo imperterriti ad andare avanti in questa storyline magnifica di questa season 2 che veramente sta per regalarci delle emozioni veramente incredibili e alcune cose come vi avevo anticipato già le conosciamo passando alla foto che vi sto facendo vedere in questo momento sullo sfondo non è una semplice foto dell'agenzia la cosa che va guardata in questa fotografia è proprio la cabina del telefono ora voi dite exciuda la cabina del telefono è esattamente uguale a quella che già c'è adesso vero vero ma sembrerebbe che non si sa quando ma prima della fine di questa season la cabina che state vedendo lì all'agenzia diventerà di un colore blu o azzurro e quindi prenderà una funzione diversa da quella di trasformare il giocatore in uno scagnozzo secondo quanto dicono su reddit i più vicini diciamo allo staff di epic games sembrerebbe che utilizzando la cabina blu ci siano due opzioni dobbiamo capire qual è quella giusta la prima il giocatore cambia la skin e non si sa in che cosa se loro dicono in un'altra skin non esplicitano quello che è la seconda che secondo me la più veritiera utilizzando la cabina azzurra si potrà diventare l'agente di uno dei posti quindi o sky o brutus o miascolo o mida insomma tutti gli agenti che ci sono qua bisogna capire un attimino perché e sono stati anche trovati dei file dedicati all'agenzia che però non si chiamerà più agenzia ma si chiamerà plaza questa cosa potrebbe anche essere ricondotta a un'immagine che abbiamo già visto qualche video fa che appunto mostrava uno stage avanzato dell'agenzia stessa dove ci sono appunto i bordi dorati molti dettagli appunto che diventano d'oro un po come era successo nelle case dell'isola centrale nella fine del della season 1 di questo capitolo 2 dove appunto poi arrivò mida e capimmo tutti qual era il discorso la figata ragazzi è che potrebbe appunto essere dedicata questa nuova plaza appunto ad un proseguio della storyline e qualcosa già lo sappiamo perché in molti sostengono che parte della prossima mappa sia under water come la chiamano loro sott'acqua e questa cosa ci è già stata mostrata spoilerata nell'evento di travis dove anche è arrivata una nuova animazione per il personaggio cioè abbiamo avuto la possibilità di nuotare sott'acqua il fatto di nuotare sott'acqua non è sicuramente stato fatto esclusivamente per l'evento ma molti dicono e parlo di gente che ha milioni di follower che il discorso del personaggio che nuota sott'acqua potrebbe appunto essere associato ad una parte nuova della mappa legata agli oggetti che ci sono intorno all'agenzia del doomsday event e altri azzardano addirittura un'ipotesi di una collaborazione invece con aquaman in realtà non è così sbagliato da pensare perché come vedete in questa season c'è stata una collaborazione con deadpool che non ha niente a che vedere se ci pensiamo con la season in sé il che potrebbe appunto avvalorare le le ipotesi di aquaman e prima di salutarvi per andare un attimo a chiudere tutto il discorso delle cose che si stanno dicendo su reddit in maniera veramente pazzesca in queste ore e anche ovviamente il discorso della ragazza the engineer quindi la fotografia che è presente sia nella stanza di mida ma è presente anche nel quadro della base operativa di mida nei negozi di corso commercio che riprende proprio lei insieme a brutus quindi anche lì sappiamo che questa skin è stata anche inserita nei file di gioco non è ancora ovviamente disponibile ma avrà un certo peso per quello che riguarda la storyline e voi mi dite perché exuder mi stai facendo vedere una casa in fiamme perché c'è un'altra roba fighissima che dovrebbe invece essere relativa ad una nuova funzione del motore grafico che stiamo utilizzando che epic games ha utilizzato in questo in questo capitolo il chaos engine è vero che tutti ci aspettavamo che ci fossero degli effetti un po più spettacolari per la distruzione delle degli edifici ma sappiamo che hanno fatto questo passo indietro appunto per evitare di appesantire ulteriormente le partite soprattutto in endgame ma una cosa che arriva e che potrebbe seriamente essere disponibile dal prossimo dalla prossima season è la possibilità di avere gli edifici che si incendiano il che ci porta anche a quest'altra immagine che arriva un pochettino così senza didascalie senza niente dovrebbe essere una flare gun che cos'è una flare gun praticamente è un uno spararazzi in poche parole no però in un contesto di fortnite dovrebbe essere utilizzato come un'arma che si danneggia ma non fa male al giocatore se lo prendi ma qualora tu sparassi verso una struttura che qua bisogna capire se verrà adottata anche questa nuova tecnica del chaos engine sulle nostre costruzioni la struttura che è stata colpita prende fuoco e quindi in breve tempo il giocatore che potrebbe essere al suo interno riceve i danni del tempo da bruciatura insomma ragazzi ci sono tantissime cose che stanno piano piano venendo fuori ed è giusto che sia così perché il tempo lentamente sta scadendo insomma ragazzi anche per oggi io tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao